Musica Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura andiamo a Città Sant'Angelo dove questa mattina presso la direzione del settimo tronco autostradale si è tenuto un tavolo tecnico fra Autostrade per l'Italia, Università di Trento e Ministero dei Trasporti per discutere degli aspetti scientifici che riguardano le prove di carico da effettuare su via d'autostradali della 14 nel tratto nord Francon e Pesaro e nel tratto sud fra Pescara e Chieti. Sentiamo l'intervista a Placido Migliorino, ingegnere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, realizzata da Paolo Renzetti. Questo primo incontro è finalizzato a definire un protocollo scientifico che ci dovrà consentire non solo per la rete del settimo tronco di Autostrade per l'Italia ma per tutta l'infrastruttura gestita da Autostrade per l'Italia di valutare in maniera appropriata la sicurezza dei viadotti esistenti e valutare anche quelle che sono le condizioni d'uso, ovvero le eventuali condizioni improprie perché non ci scordiamo che queste sono opere viadotti fatti nel 50 anni, 60 anni fa costruite con certe previsioni di carico e che oggi ovviamente hanno delle previsioni diverse e quindi individuare anche le condizioni di transitabilità eventualmente qualora ci fossero delle criticità e delle condizioni di adeguata manutenzione per preservare l'opera nel tempo ovviamente. Nel momento qual è la situazione in generale? Beh, la situazione in generale è difficile da dire perché è un discorso che fa parte di una mappatura che la società concessionaria, in questo caso Autostrade per l'Italia, ha fatto e già nei suoi archivi. La situazione in generale non può essere descritta in termini. È importante che sulla base di quella mappatura, sulla base di quelle che sono i rilievi fatti in passato a quelle condizioni accertate a seguito di sopralluoghi venga applicato il modello di calcolo, il protocollo scientifico che noi stiamo definendo e che oggi abbiamo avviato con l'intervento dell'istituzione universitaria dell'Università di Trento che ha scelto proprio, ha individuato la società concessionaria ed è proprio quello strumento che poi applicato a tutti i viadotti della società concessionaria ci dirà qual è lo Stato e quindi se viadotto per viadotto, se è necessario fare degli interventi oppure no. Cambiamo argomento adesso la cronaca con la maxioperazione contro l'Andrangheta che ha coinvolto anche la provincia dell'Aquila. Daniela Rosone. Tocca anche la provincia dell'Aquila la maxioperazione di polizia coordinata dalla procura antimafia di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri contro l'Andrangheta. Gli agenti del servizio centrale operativo e dell'acquestura di Catanzaro hanno eseguito 31 arresti a Vibo Valencia e altri che secondo una nota dell'acquestura sono scattati nelle province di Reggio Calabria, Palermo, Roma, Bologna, Prato, Livorno, Alessandria, Brescia, Nuoro, Milano, Udine e infine l'Aquila. Le accuse vanno dall'associazione per delinquere di tipo mafioso al concorso esterno in associazione mafiosa estorsione, danneggiamento e rapina aggravati dal metodo mafioso detenzione, porto illegale di armi ed esplosivi, lesioni pluriaggravate, indestazione fittizia di beni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Colpita la cosca dei Piscopisani, così chiamata perché la sua base operativa nella frazione Piscopio di Vibo Valencia della quale nel corso di un processo un super testimone, tra l'altro detenuto proprio nel carcere Le Costarelle di Preturo aveva parlato dell'alleanza con un'altra famiglia calabrese e degli interessi nei subappalti della ricostruzione post-terremoto. La cosca voleva rimpiazzare Mancuso, storicamente dominanti sul territorio, nel controllo delle attività illecite in una vasta area comprendente Vibo Valencia ed alcune frazioni. Agli indagati sono a vario titolo contestati i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento e tanti altri reati. Nel corso delle perquisizioni sono stati arrestati in flagranza di reato Angelo David per il possesso di mezzo chilo di marijuana e Sascha Fortuna per il possesso di una carta d'identità valida per l'espatrio ma falsa. L'operazione ha visto l'impiego di oltre 200 poliziotti a Bibo Valencia e altri nelle varie province, compresa l'Aquila. Il clan dei Piscopisani avrebbe posti in essere a iniziare dal 2010 azioni tesi a contrastare il predominio criminale dell'altro clan Mancuso con proiezioni sul territorio nazionale. Le attività investigative hanno permesso di scoprire una base operativa a Bologna dove sono state sequestrate delle armi e collegamenti con Palermo dove i Piscopisani piazzavano cocaina già sequestrata durante le indagini. Rapina questa mattina attorno alle 11 nella sede di via Marconi della Banca Popolare di Puglia e Basilicata nella filiale. Si è introdotto un uomo con il volto coperto e armato di taglierino che ha minacciato il personale e si è fatto consegnare il denaro in cassa a circa 6.000 euro. Subito dopo è fuggito con il bottino a bordo di un'automobile. Sul posto lanciato l'allarme sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pescara che si stanno occupando delle indagini. Cronaca giudiziaria ora tutto da rifare nel processo per la morte del giocatore del Livorno Morosini deciduto a seguito di un malore in campo nel match di Serie B del campionato 2012 contro il Pescara. La Cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del febbreo 2018 nella quale erano state confermate le condanne i medici Malio Porcellini del Livorno Calcio, Ernesto Sabatini del Pescara Calcio e Vito Molfese del 118 per la morte del calciatore del Livorno Pier Mario Morosini deceduto durante Pescara-Livorno, gara giocata nel 2012. I tre medici erano stati condannati a otto mesi i primi due e a un anno il terzo. La Corte ha disposto un nuovo processo presso la Corte d'Appello di Perugia. Gli avvocati Girardi e Rondanina da Livorno hanno fatto sapere che al momento non sono disponibili le motivazioni della sentenza, ma che l'opposizione dei legali dei tre medici, tra i quali anche l'avvocato Alberto Lorenzi di Pescara, che segue il dottor Molfese, era stata ampia e verteva sull'intero complesso della sentenza aquilana. Tra queste soprattutto la responsabilità dei medici sull'uso del defibrillatore, il cui uso, secondo una perizia, avrebbe potuto forse dare qualche chance in più di vita al giocatore livornese. Ci spostiamo adesso al Tribunale di Teramo, dove il GUP Marco Procaccini ha rinviato gli atti alla Procura disponendo la citazione diretta a giudizio per i dieci indagati nell'ambito dell'inchiesta sul presunto inquinamento dell'acqua del Gran Sasso. Si è celebrata questa mattina nel Tribunale di Teramo l'udienza preliminare per il processo sul presunto inquinamento dell'acqua del Gran Sasso. Il GUP Marco Procaccini ha disposto il rinvio degli atti al pool di PM per la citazione diretta a giudizio per dieci persone, tutti accusati di inquinamento ambientale. Caduta nel vuoto, almeno al momento, l'annunciata costituzione di parte civile di comune di Teramo, comune di isola del Gran Sasso e provincia di Teramo, oltre a cittadinanza attiva ed altre associazioni ambientaliste. Quello oggetto dell'udienza odierna è il primo filone delle indagini affidate dal procuratore di Teramo Antonio Guerriero al pool di magistrati composto dai sostituti procuratori Greta Aloisi, Davide Rosati e Stefano Giovagnoni. Le risultanze delle indagini, secondo i magistrati, avrebbero evidenziato tutta una serie di presunte interferenze tra i laboratori, le gallerie autostradali e il sistema di condutture delle acque con criticità mai sanate. Questo, sostengono i magistrati, ha portato ad un pericolo permanente per la salubrità delle acque a causa di un inadeguato isolamento delle opere di captazione e coinvogliamento di quelle destinate ad uso potabile. Sul sistema del Gran Sasso, la procura di Teramo ha aperto anche un secondo filone di indagine al momento senza indagati che interesserebbe alcuni esperimenti svolti nei laboratori e il loro eventuale impatto ambientale. Adesso torniamo e restiamo a Teramo per il 167esimo anniversario della Polizia di Stato. Andiamo a vedere le celebrazioni che si sono svolte nel capologo a Prutino. Picchetto d'onore per il prefetto Gabriella Patrizzi e per i rappresentanti delle altre forze dell'ordine che hanno dunque partecipato alle celebrazioni. L'attività investigativa più importante è stato ricordato per quanto riguarda il 2018. È stata l'operazione Lupi del Deserto contro l'estremismo religioso dell'Isis. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Anche a Teramo la Polizia di Stato festeggia il 167esimo anniversario della Fondazione del Corpo. Picchetto d'onore per l'arrivo del prefetto Graziella Patrizzi ma anche per tanti illustri ospiti che hanno gremito la sala polifunzionale della provincia. Oltre alle autorità civili e religiose hanno partecipato le delegazioni delle altre forze dell'ordine Carabinieri, Finanza e poi Polizia Penitenziaria, Procura, Vigili del Fuoco, Croce Rossa. Durante la cerimonia sono state consegnate le onorificenze ai poliziotti che hanno portato a termine importanti attività operative nel corso dell'anno. Slogan della giornata? Una grande festa che vuole ricordare quanto la polizia si avvicina ai cittadini. Sì, ormai sono anni che il nostro motto è esserci sempre, esserci ma soprattutto con questo concetto di prossimità e di vicinanza alla popolazione. Ormai non basta più dare semplici statistiche e numeri di reati ma bisogna offrire una vicinanza che si concretizza nella piena visibilità delle nostre divise. Sono stati fatti dei progressi in questi ultimi anni contro la criminalità nel nostro territorio? Assolutamente sì, l'importante però è rimodularsi. Il crimine è un fenomeno dinamico che trova sempre nuove forme, nuovi luoghi di manifestazione e quindi la nostra capacità deve essere quella di percepire questi cambiamenti e farci trovare pronti e preparati a reagire in tutti i modi. Quali sono le eccellenze della Polizia Terramana? Ma non parlerei di eccellenze, diciamo che tutti i settori sono al meglio sia dal punto di vista investigativo che dal punto di vista informativo. Una cosa che noi dobbiamo fare è valorizzare tantissimo le specialità. Abbiamo visto che c'è un incremento di oltre il 101% dei reati informatici e quindi specializzazioni tipo quella della Polizia Postale ormai sono irrinunciabili da parte nostra. Quest'anno ricorre anche il sessantesimo anno dall'istituzione del Corpo di Polizia Femminile che ha dato possibilità alle donne di fare parte della Polizia di Stato, ricoprendo a pieno titolo e a tutti i livelli i ruoli fondamentali. Terramo in questo rappresenta un vero esempio. Dirigente della divisione anticrimine è Laura Pratesi, mentre a capo della squadra mobile c'è Roberta Cicchetti. E poi vera pari opportunità nella Polizia perché avete tante dirigenti donne? Assolutamente sì, le pari opportunità ci aiutano tantissimo perché abbiamo tanti settori in cui il modo di fare, l'affabilità, la pacatezza e anche la determinazione delle donne risultano vincenti. Per quello che riguarda l'attività investigativa della Polizia di Stato di Terramo nel 2018 particolarmente importante è stata l'operazione Lupi del Deserto in materia di contrasto all'estremismo religioso di matrice jihadista. Per quanto riguarda i reati nel Terramano si è registrato invece un aumento di quelli sulla costa da parte di bande composte da albanesi e rumeni. All'Aquila invece è rinviata la festa della Polizia per il 167esimo anniversario perché c'è stato un lutto con una poliziotta morta sul cui corpo è stata disposta l'autopsia. L'ipotesi più accreditata appare quella del suicidio ma chiaramente bisogna fare luce sul caso e allora vediamo insieme il servizio. Sul corpo della poliziotta aquilana che si è uccisa con la pistola d'ordinanza sarà fatta l'autopsia ma sicuramente si tratta di un gesto volontario. Aveva appena accompagnato i figli a scuola di 18 e 20 anni poi si è partata in un rudere vicino la casa per togliersi la vita. In questura c'è ancora dolore e incredulità per la morte di Anna Maria Chiacchia di 45 anni in servizio presso il compartimento di Polizia Stradale che ha deciso di togliersi la vita con la propria pistola d'ordinanza. Per questo la Polizia di Stato dell'Aquila ha anche annullato per il momento la cerimonia per la festa della Polizia. La donna, come si diceva, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato dopo aver accompagnato i figli a scuola è tornata nella sua abitazione e spostandosi di pochi metri ha deciso di farla finita. Non arrivando in ufficio i colleghi hanno pensato di allertare il marito della donna che lavora nella scuola della Guardia di Finanza all'Aquila e finanziere. A sua volta l'uomo ha allertato la figlia che ha cominciato a cercare la mamma, a rimvenire il corpo senza vita della gente, suo fratello, inutile l'arrivo degli operatori del 118 che hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Sul posto il sostituto procuratore Roberta Davoglio. Tutta l'area è stata sequestrata, così come la pistola. La donna non ha lasciato a quanto sembra nessun biglietto per giustificare il suo gesto e né nessuno aveva notato in lei dei segni di insofferenza. Adesso la politica con le amministrative di Pescara, anche il centro-sinistra ha scelto perché l'ex assessore regionale Marinella Sclocco sarà la candidata a sindaco dopo settimane di discussioni. La coalizione è dunque riuscita a trovare una sintesi attorno al nome di Marinella Sclocco. Sentiamo il servizio con l'intervista. Marinella Sclocco scende in campo, candidato sindaco per il centro-sinistra. Decisione arrivata nelle ultime ore dopo un lungo dibattito. Come mai ha accettato la richiesta soprattutto del Partito Democratico? La richiesta è venuta da un tavolo di coalizione, non solo dal Partito Democratico, dopo aver discusso all'interno del tavolo sul profilo della candidatura. Mi è stata fatta questa richiesta proprio ieri. Ho accettato con entusiasmo perché Pescara è una città che amo. È la mia città, la città della mia famiglia, è la città dove spero di poter vivere fino alla fine dei miei giorni. Ho sempre sentito questa forte esigenza di servizio nei confronti della comunità e quindi sarebbe bellissimo poter fare tutto quello che ho fatto, anche per esempio in regione, nella mia città. Credo che sia il riconoscimento non solo del fatto che sono una giovane donna, ma soprattutto del lavoro che ho fatto in questi anni a partire dal mio quartiere, che è la Madonna del Fuoco, quartiere di cui vado orgogliosa e con il quale abbiamo fatto moltissimi progetti negli anni quando ero al Consiglio di Quartiere e poi in provincia. Chiedo anzi a tutti coloro che vogliono impegnarsi per costruire una città diversa, una città innovativa, una città che guardi il futuro, di farsi avanti. Questo è il momento veramente di tutti i pescaresi. Lei ha parlato di un tavolo di coalizione, potrebbe essere ripetuto con lei quello che è stato fatto alle recenti regionali con Legnini? Beh certo, penso anche meglio, spero anche meglio, però ecco lo spirito è quello lì. Adesso continuiamo con la politica perché si vota anche a Città Sant'Angelo e questa mattina è stato presentato il candidato a sindaco della coalizione di centrodestra. Si tratta di Matteo Perazzetti che ha illustrato così il suo programma. Si avvicinano le amministrative di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti sarà il candidato sindaco per il centrodestra. Oggi la presentazione ufficiale anche del programma. Quali le priorità? Le priorità sono quelle di portare Città Sant'Angelo avanti veloce, queste sono due parole che io voglio sottolineare. Perché Città Sant'Angelo e tutti gli indicatori oggi di Città Sant'Angelo sono negativi. Parliamo di raccolta differenziata che secondo gli ultimi dati Ispra è arrivata al 20%. Un piano regolatore che è lo strumento tecnico di armonizzazione territoriale che non è ancora stato presentato. Città Sant'Angelo è un paese dinamico, un paese in pieno sviluppo e deve avere risposte concrete e molto molto veloci. Questa amministrazione non la sapute dare, anzi ha fatto una mala gestione sia territoriale sia a livello economico, tale da aver portato il Comune a dover sacrificare sull'altare beni patrimoniali come la farmacia comunale come la Lex Ludoteca o la Biblioteca per i ragazzi. Un impoverimento di servizi per i cittadini che io come primo fruitore dei servizi non accetto ed ecco perché il mio impegno per cercare di portare Città Sant'Angelo verso un futuro molto 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 migliore. Come mai Perazzetti ha deciso di scendere in campo in prima persona? Perché Perazzetti è un cittadino come tutti quanti gli altri. Perazzetti ama Città Sant'Angelo ed è proprio nel nome della lista. Sì amo Città Sant'Angelo e racchiuso tutto quello che è tutta la motivazione per la quale io ho fatto questa scelta. Amo troppo Città Sant'Angelo, insieme alla mia lista l'amiamo tanto e non accettiamo che venga deturpata in questa maniera. Adesso torniamo all'Aquila ma cambiamo decisamente argomento per la corsa al nuovo rettore dell'Ateneo Aquilano e sfida fra Edoardo Alesse e Carlo Masciocchi. Il punto che è la successione di Paola Emberardi alla guida dell'Università dell'Aquila sono Edoardo Alesse e Carlo Masciocchi. La conferma dopo l'Assemblea di Ateneo convocata dal decano Pier Ugo Foscolo. La prima votazione è fissata ora per il 13 giugno. Se non si dovesse arrivare all'elezione di uno dei due candidati si andrà in seconda votazione il 18 giugno, eventualmente in terza il 25 e se necessario al definitivo ballottaggio che si farebbe il 28 giugno. Alesse, originario di Rieti, 61 anni, è docente del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche di cui è stato direttore fino a qualche mese fa. Masciocchi invece, docente dello stesso dipartimento, è nato all'Aquila nel 1956 ed è già direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia dell'Ospedale San Salvatore. È prorettore vicario dell'Ateneo dall'ottobre del 2013. Il clima non è lo stesso di sei anni fa, infuocato all'epoca delle elezioni di Paola Enverardi, la cui vittoria segna un momento di forza e rottura col passato, dopo la candidatura di Maria Grazia Cifone in continuità con il rettore uscente Ferdinando Di Orio. I due candidati, nel corso dell'Assemblea, hanno presentato i loro programmi. Le mie idee progettuali, ha detto Alesse, staranno dentro il limite definito dai valori istituzionali dell'Ateneo, didattica che significa crescita di studenti che diventeranno operatori della società, ricerca che dovrà offrire gli strumenti tecnici a quegli operatori, valorizzazione dei risultati della ricerca anche con finalità di profitto per l'Ateneo e la quarta missione, la più nobile, alimentare la coscienza critica della società, con l'impegno a generare attività, atteggiamenti, saperi che creino giustizia e sostenibilità. Alesse ha pure sottolineato di voler migliorare le funzioni e la riconoscibilità tra gli organi di governo, quelli di controllo e garanzia di gestione amministrativa, consultive e di proposta. Se sarà eletto rettore, sarà innanzitutto, ha detto, il garante della legge, dello statuto e dei regolamenti. Masciocchi ha ribadito che la città dell'Aquila si fonda sull'università. Dovremo ribadirlo con forza. Il prorettore ha rivendicato anche i risultati ottenuti dall'Ateneo con l'attuale governance. Dovesse essere eletto a capo della commissione ricerca, Masciocchi vorrebbe un delegato, capace di coordinare i processi e interfacciarsi con i dipartimenti. Ha anche detto che si dovrà fare in modo che la ricerca applicata, quella di base e quella culturale, procedano di pari passo. Masciocchi ha accennato anche all'attività sanitaria che ha eseguito in questi anni. Ogni giorno tanti colleghi svolgono la loro attività assistenziale con risultati egregi, rendendo chiaro a tutti, agli enti locali e regionali, che l'università è importantissima per la città. Purtroppo però, ha detto, a volte l'ambiente locale pare disattento. Da Aquilano però vi assicuro che l'Ateneo è nel DNA di questa città. Ecco perché quando abbiamo chiesto con forza una commissione paritetica per redigere finalmente un nuovo protocollo con la regione, mancava da 21 anni. Così da inserire i medici in ambito sanitario l'abbiamo ottenuto. Ed ora apriamo la pagina di sport. Partiamo dal calcio di Serie B e dal Pescara. Scendono le probabilità di recuperare Gaston Brugman e Ugo Campagnaro per lo scontro diretto che il Delfino disputerà venerdì sera contro il Perugia. Da verificare anche le condizioni dei centrocampisti Memusciai e Crecco. Salgono invece le quotazioni di Marco Perrotta che potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Gravion e al fianco di Scognamiglio. Ascoltiamo il difensore Biancazzurro. Marco, il pensiero è già rivolto alla gara con il Perugia di venerdì. Una gara quasi decisiva per il Pescara. Gara che non si potrà sbagliare. Diciamo che queste ultime sono tutte decisive quindi l'affronteremo come abbiamo affrontato le ultime partite. Dobbiamo metterci sicuramente più testa perché comunque veniamo da una sconfitta però dobbiamo affrontarla a viso aperto come abbiamo sempre fatto. La partita di Ascoli è vero che avete incassato due gol su calci di rigore però dove sono stati gli errori del Pescara secondo te? Sicuramente. Secondo me abbiamo corso meno delle altre partite. Forse i primi caldi non so però loro magari hanno avuto una marcia in più e secondo me hanno diciamo un po' meritato un po' più di noi anche se secondo me il pareggio era giusto però vabbè ora è una partita andata. Pensiamo alla prossima, pensiamo a dar di più e che poi questa cosa la dimenticheranno tutti. La chiave per andare in playoff adesso è l'Adriatico? Sicuramente giocare in casa avanti ai nostri tifosi è comunque una marcia in più quindi noi speriamo di fare più punti possibili in casa e di arrivare dentro playoff poi comunque ce la giocheremo lì. Questo bel rapporto che c'è tra voi e i tifosi che poi è paradossale nel senso che nel momento di difficoltà i tifosi piuttosto che allontanarsi si stanno avvicinando a voi e al mister? Questa è una bella cosa perché comunque i tifosi ci hanno sempre comunque sostenuto e dato una mano anche nei momenti difficili e abbiamo dimostrato che anche poi dopo le sconfitte siamo venuti fuori quindi è una bella cosa spero che ci aiuteranno da qui fino alla fine perché comunque siamo una squadra che può dirla sua anche nei playoff quindi bisogna sostenerci e dare il massimo sia a noi che a loro. Difensore Marco Perrotta chiedo come mai questa squadra subisce così tanti gol? Nelle ultime gare avete incassato qualche rete troppo? Secondo me i gol che abbiamo subito sono soprattutto su Pallena Attiva quindi dobbiamo migliorare su questo e dobbiamo lavarci di più e stare più concentrati. Proseguiamo la marcia di avvicinamento alla gara di venerdì sera lo facciamo andando in casa degli avversari del Perugia a parte Pavlovic Perugia al completo per la gara non preoccupano le condizioni di Sadik che ieri ha lavorato a parte ha cercato di scuotere l'ambiente invece il presidente Massimiliano Santopadre che ha spronato tifosi stampe giocatori a credere nei playoff scacciando via quel velo di rassegnazione sceso dopo le due ultime sconfitte. Sentiamolo. Ci tengo a precisare quando poi magari giunge un poco di rassegnazione rispetto ai risultati della squadra perché secondo me io oggi sento questo nell'aria e mi fa profondamente male perché nella vita secondo me chi vuole arrivare a certi obiettivi non può essere preso dalla rassegnazione. La rassegnazione se ci deve essere deve arrivare soltanto quando la matematica ti dice che non c'è più nulla da fare. Siccome che noi stiamo ampiamente dentro i numeri non credo che sia giusto o opportuno sentirsi rassegnati. Abbiamo dopo due anni di partite angoscianti e nogliose abbiamo deciso di svoltare pagina abbiamo preso un allenatore che preferisce giocare che vuole essere propositivo che gioca con la difesa alta quindi di conseguenza è anche chiaro che si rischi qualcosa di più e che magari la nostra difesa prenda qualche gol di più ma non lo accetto di dire che la nostra difesa non è forte. Sono dei ragazzi straordinari ci stiamo mettendo tutto. Abbiamo bisogno che anche l'ambiente ci creda. I giocatori ben primi se ci devono credere. Questo è il messaggio che dobbiamo dare. È inutile che ogni anno continuiamo a dire Santo Padre non vuole salire. Santo Padre la Serie A non ci vuole andare. Sono assurdità. Sei partite, 18 punti, è un nuovo campionato. La squadra venerdì a Pescara deve andare con la bava la bocca perché noi possiamo andare ancora in Serie A. Lasciamo dunque la Serie B, scendiamo di categoria, andiamo in Serie C. Il difensore del Teramo Nebil Kaidi parla della prossima gara dei Biancorossi contro la capolista Pordenone. Impegno complicato per il Diavolo anche se il capitano della formazione di Maurizzi chiarisce che le motivazioni saranno al massimo per entrambe le squadre. Ascoltiamo. Non lo so. Sinceramente non è facile da capire. Non ho nemmeno tanta voglia di fare calcoli perché fare calcoli spesso porta fuori strada. Dobbiamo cercare di rimanere compatti, di rimanere sul pezzo come si dice, di affrontare una gara di domenica e cercare di fare punti. Poi dopo tireremo le somme di parito in partita perché questo campionato è veramente un campionato bello e difficile. Sicuramente la spinta ci deve far dare queste ultime prestazioni secondo me perché comunque abbiamo ritrovato uno spirito importante e quindi dobbiamo continuare e cercare di migliorare i nostri difetti ma ecco lo spirito è quello che si è visto domenica, deve essere uno spirito battagliero perché una squadra che si deve salvare non può fare a meno di questo spirito. Io spero vivamente che la squadra rimanga così compatta come è stata in queste partite. Sì, probabilmente quella sconfitta lì è stata pesante e ci ha raddrizzato un po' le antenne perché avevamo capito che forse magari siamo stati un po' leggeri noi su quella partita e quindi abbiamo capito che il campionato era veramente difficile e quindi bisognava fare grandi prestazioni a livello atletico, a livello di corsa, a livello di atteggiamento più che altro perché questo campionato richiede questo, richiede che devi correre più dell'avversario per vincere le partite. Si gioca col coltello fra i denti perché noi vincere è come vince il campionato per noi, quindi è uguale, gli stessi stimoli abbiamo perché se loro vincono magari vincono il campionato, se noi vinciamo siamo salvi magari, quindi ognuno raggiunge il proprio obiettivo, quindi siamo esattamente a 50-50 come stimoli. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete trovate i nostri servizi on demand sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!